Conclusa ieri pomeriggio la due giorni di vaccinazioni per ultraottantenni residenti a Colecorvino. 260 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, tra cui un uomo che si appresta a festeggiare 102 anni e una donna, Costanza Disidoro, classe 1920, che da poco ha spento 101 candeline. È stato proprio un piacere vaccinarmi, veramente necessario, come si fa? Rispetto alla guerra che lei ha vissuto, che cosa è questo? Beh, forse è una continuazione della guerra. Non si ferma, non si ferma adesso. Però devono stare attenti, sempre con la mascherina devono uscire, se no non c'è niente da fare, capito? Se ci vogliamo guarire, dobbiamo mettere sempre la mascherina, stare in lontananza. La seconda dose sarà somministrata prima di Pasqua. Soddisfatto riguardo l'organizzazione e la partecipazione dei suoi concittadini a questa campagna vaccinale, il primo cittadino è presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, il quale invita tutti a mantenere un comportamento tale da non favorire la trasmissione del virus, visto che solo nella giornata di ieri sono stati 274 nella provincia di Pescara i contagi, di cui 53 di età inferiore a 19 anni. Ieri ci sono state due persone oltre centenari, ci fa anche piacere questo. Però senza nulla togliere le persone anziane, bisogna intervenire subito a chi muove l'economia, a chi lavora quotidianamente a contatto con altre persone. E poi consentitemi di ringraziare tutti quelli, gli operatori sanitari, non solo che sono stati a Collegorvino, ma che comunque si muovono da comune a comune, dopo un turno di lavoro vanno anche a vaccinare e quindi li voglio ringraziare. Noi spostiamo le masse di popolazione, 300-400 persone per la vaccinazione. E in questa fase è molto delicata, se diciamo che da comune a comune non si può trasferire, poi diciamo che ti devi andare a vaccinare in un altro comune, è una contraddizione. Ieri dati molto molto allarmanti, soprattutto perché si è abbassata la fascia di età. Dobbiamo costituire le bolle familiari, le famiglie non devono interfacciarsi con altre famiglie. Purtroppo è questa la situazione attuale e la dobbiamo mantenere. È contro la nostra natura, però in questa fase è necessario.